Uno dei piatti più storici del ristorante Antica Torretta è lo gnocco di ricotta al tartufo. Lo chef ha preso ispirazione da una ricetta tradizionale della cucina veronese, lo gnocco di malga con il burro di affioramento e la ricotta fomecata. Qui invece ha inserito uno degli ingredienti che nobilitano il piatto come la ricotta fresca messa nell'impasto, si aggiunge del burro noisette per dargli un tocco più deciso, una spolverata di grana padano e si termina con dell'ottimo tartufo nero scorzone dell'alessina. Il segreto di questo piatto è la maestria nel saper bilanciare questi quattro semplici ingredienti che uniti insieme creano un effetto di grande bontà.